Eccoci qua di nuovo con l'opera Schott. Oggi parliamo della Bohème, un'opera nata proprio qui al Reggio nel 1896. In questa produzione riproponiamo, ricostruiamo, i disegni di Adolf Hoenstein che li aveva preparato per proprio la prima mondiale qui. So che conoscete benissimo la storia dei giovani squadrinati in quella piccola fredda soffitta parigina. I loro sogni, le loro illusioni, un grande amore o anche due, una musica che vi prende al cuore. Da non perdere. Grazie a tutti.